salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco ci troviamo su dissidia come fantasy o per omni ovviamente versione giapponese perché ne approfittiamo oggi per fare le free pool che sono disponibili all'interno del gioco e specialmente data l'occasione invitarvi per l'appunto in live sul mio canale twitch dato che oggi in particolar modo non solo è uscita la boss rush nella versione giapponese e quindi possiamo avere comunque anche un pochettino di tempo per guardare questa nuova boss rush con protagonista ldd fang come potete vedere appunto dal banner che è stato rilasciato oggi stesso con il livello 90 che viene preso in questo caso comunque da fang e da beatrix quindi abbiamo la possibilità di vedere comunque due personaggi che soprattutto fang che purtroppo non ha mai avuto un futuro rosio all'interno del meta prendere fortunatamente un pochettino di respiro beatrix viene migliorato al 90 non viene cambiato e chissà che cosa però ovviamente prendendo comunque tutti gli aggiustamenti del caso riesce ad essere adesso molto più aggressiva rispetto ovviamente alla sua versione precedente mi sono conservato le pool perché così potevamo un parlare soprattutto anche annunciarvi il fatto che stasera saremo sempre live ovviamente sia per parlare della boss rush in versione giapponese ma poi per commentare insieme come sempre la live streaming mensile dove a quanto pare verrà annunciato un qualcosa di incredibile ora che sia bt che sia ld io vi lascio un pochettino così potrei dire di avere forse qualche news non ne sono sicuro al 100 per cento però qualche nome mi è stato fatto io vi lancio la sfida provate a scriverlo nei commenti sia che sia magari che sia un ld o magari che sia una bt ma soprattutto scrivetemi quale personaggio secondo voi avrà comunque o sarà fondamentalmente protagonista di questa diciamo di questa live no questo annuncio particolare questo annuncio spettacolare che c'è stato fatto presente e che c'è stato detto fino a questo momento detto ciò facciamo il free ticket sul ram dato che mi manca ovviamente quindi vediamo questo free bronzino argentino quindi un po più caliente e poi successivamente se non sbaglio a cliccare magari abbiamo la free pool del banner all stars quindi vediamo cosa c'è all'interno del banner all stars orb azzurra che non è un granché però abbiamo visto che comunque da orb azzurra magari la fortuna può aiutarci e poi andiamo a fare anche la free pool su fang azzurra che non è un po' eh peccato che già ce l'abbia peccato 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 veramente non che sarebbe stato cattivo però avendola già sinceramente passa un po' l'interesse mi sarebbe incuriosito provare fang con ld ma ovviamente non mi interessa come personaggio quindi non ho intenzione assolutamente di buttarci risorse va bene non abbiamo altre free pool non abbiamo nulla quanto pare per ora no ovviamente queste due col free ticket quindi va bene direi che per il momento è tutto io vi aspetto questa sera ovviamente live sempre sul mio canale twitch parleremo commenteremo la boss la scema soprattutto vedremo che cosa avrà in serbo per noi il gioco nella sua controparte globale quindi vi aspetto stasera vi saluto e vai vai ciao 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 ciao